Non si placa la polemica tra Sergio Chiamparino e Danilo Toninelli sull'alta velocità Torino-Lione e le infrastrutture delle Nord-Ovest. Il presidente della regione Piemonte ha fatto sapere in una nota rivolta a tutti i media che Toninelli non gli risponde da ormai 113 giorni, però in compenso sembra stia tenendo fermi i finanziamenti già decisi, deliberati e pubblicati in gazzetta ufficiale per il quinto lotto dei lavori del terzo valico, inseguendo l'araba fenice, così la definita Chiamparino, dell'analisi costi-benefici su opere che sono già in corso di realizzazione e se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere. Se questi fondi non verranno sbloccati, continua Chiamparino, dall'inizio di ottobre i lavori si fermeranno e di qui alla fine dell'anno qualche centinaio di lavoratori perderà il posto senza contare le mancate assunzioni. Il rischio che si interrompa la seconda grande opera necessaria a fare in modo che Piemonte, Lombardia e Liguria diventino una delle grandi piattaforme logistiche d'Europa è, secondo il presidente Chiamparino, sempre più vicino.